Ciao ragazzi, benvenuti nel video che sognavo di fare praticamente da una vita, o meglio da quando ho aperto il mio canale YouTube, cioè uno studio tour, mostrarvi l'ambiente nel quale lavoro quotidianamente, ma anche nel quale, e ciò che vi interessa di più, realizzo tutti quanti i miei video. C'è tantissimo da vedere, ci sono davvero tantissime cose da mostrarvi, attrezzature e quant'altro, dunque, rimanete sintonizzati fino alla fine, perché ci sono anche delle belle chicche. Ovviamente sarà un video esperienziale e dunque, ecco, attendetevi qualcosa di questo tipo. Vi do una prima panoramica generale di quello che è il mio studio, acceso intanto tutte quante le luci, e vi dico che sono tutte quante automatizzate con delle prese smart e collegate al mio dispositivo Amazon, dunque, ad Alexa. Avete già intravisto che lo studio non è grandissimo, qui c'è una parte, c'è una parete, praticamente con tutta quanta la mia dotazione libraria. Ci saranno circa 3-4 mila volumi, perché chi mi segue sa bene che faccio l'insegnante nella vita, dunque mi sono dovuto anche adattare. Ma iniziamo piano piano da questo angolino, che spesso vedete nelle mie riprese, soprattutto quando faccio degli unboxing, quando faccio delle recensioni, un angolino che ho dovuto attrezzare alle mie spalle e che risultasse in un certo senso carino, però è sempre in evoluzione, le cose non mi accontentano mai. Qui c'è un TV LG, che spesso sintonizzo sul mio canale YouTube proprio per mostrarvelo nelle riprese. Qui abbiamo due stampanti, Epson e Brother, una stampante a getto d'inchiostro, qualora mi servisse avere delle stampe fatte a colori, e qui invece, ragazzi, una Brother che ho da più di 15 anni. Una stampante, ragazzi, eccezionale, va in rete, non è Wi-Fi, però con un Ranger Extender praticamente diventa Wi-Fi anche lei. Dunque, nessun problema da questo punto di vista, ma non mi dilungo oltre. Ciò che vi voglio far vedere, se ci riesco anche un po' nascosto, da dietro escono delle luci, ci sono delle barre LED che ho settato e che sono comandabili anche tramite Alexa. Qui invece abbiamo la classica Nanoleaf, che vedete anche nell'altra inquadratura che utilizzo, un pezzo qui e un pezzo lì, e qui c'è una mensoletta dove ho un po' di scatole di prodotti non solo Apple, diciamo, ma comunque per la stragrande maggioranza sono loro. Dietro, nascosto, non vado ad aprire, abbiamo una delle torrette della TP-Link che vi ho mostrato anche in un video, in una recensione. E nascosti anche qui dietro ci sono degli switch Ethernet, mentre una chicca di questo angolo sta nella parte inferiore. Ci sono delle scatole che contengono cavi, semplicemente prese all'IKEA, e dentro c'è la postazione Raspberry che io utilizzo per Retropie. E quando praticamente non gioco qui, utilizzo la mia console che si trova all'interno di questa custodia rigida, console che avete anch'essa vista in un video, non la vado a tirare fuori per tali ragioni. Qui invece abbiamo il mio angolo relax, diciamo, che ho fatto con questa sedia dell'IKEA. All'inizio c'era la Poang, quella che molleggia per intenderci, ma poi ho preferito mettere questa. Indubbiamente, ragazzi, gli spazi non sono grandissimi, quando devo aprire i cassetti, ecco, la devo spostare. E stessa cosa per ciò che concerne quell'altro mobiletto, dove ci sono altri switch collegati a tutta quanta la rete di casa, e altre cose che in questo momento non sono degne di nota. Vi faccio vedere un attimo i cassetti, velocemente, semplicemente per farvi vedere quanta attrezzatura, cavi, lampadine smart, c'è un monitor piccolino da 7 pollici che posso utilizzare in tantissimi modi, così come ci sono tastiere portatili, cavi HDMI, insomma c'è un po' di tutto all'interno di queste cassettiere, vecchi modem, altra cavetteria, Chromecast e così via. Non ve li vado ad aprire tutti quanti. Adesso, prima di arrivare qui, dov'è il fulcro, passiamo un attimo da quest'altro lato, semplicemente per farvi vedere che qui ho adattato gli spazi rimanenti con delle cassettiere, lì c'è il proiettore che avete visto sempre in una recensione qui sul canale, non vi dico bugie, quando vi dico che lo utilizzo quotidianamente per il mio lavoro, l'ho conservato, non l'ho rivenduto. E qui mi sono inventato una piccola postazione di ricarica, grazie a queste prese smart, con un comando posso attivarle. Per esempio, Alexa, accendi caricatore video. Ecco, vedete che si sono accese. Alexa, spegni caricatore video. Ci sono tutte quante le batterie che utilizzo per la fotocamera ed altri accessori, ma tra poco le vedremo. E ho anche creato una routine per caricare le batterie a tempo, mi basta dire, sempre accendi caricatore video con timer e lui dopo 5 ore si va a spegnere. Dunque è una postazione di ricarica nella quale posso collegarci davvero tantissime cose. Qui in alto conservo praticamente i miei treppiedi, il caricatore per il trapano e qui ho dei tappetini, tappetini che spesso vedete sulla scrivania. In modo particolare voglio farvi vedere questo perché è un'idea che praticamente mi è venuta. In realtà sono dei tappetini che vanno a coprire i pavimenti. Quando si vogliono rifare i pavimenti, dare quell'effetto come se fosse un parquet, ecco, ho utilizzato quelli perché si trovano anche con più facilità, soprattutto perché ne volevo uno in legno e non volevo prendere della carta che poi andasse a rovinare praticamente la scrivania. Qui vi faccio vedere un altro prodottino, ragazzi, che certamente avete visto già in un video del quale ho portato la recensione, ed è un purificatore d'aria marchiato Sigma. Anche lui è smart, può funzionare con tutti quanti gli assistenti vocali e ragazzi, credetemi, è davvero, davvero eccezionale. Riesce a raggiungere i risultati ottimi, purificazione, ma raffresca anche, soprattutto di questi periodi. Qui c'è una griglia, dentro ci sono i filtri. Lui può anche emanare raggi ultravioletti e anche carboni attivi per andare a pulire l'aria da odori. Vi faccio vedere subito qui questa lunga barra. Non è nient'altro che un green screen, però ragazzi, non è il green screen marchiato, elgato, perché trovo migliore questo, costa anche di meno. E perché vi dico questa cosa qua? Perché il green screen, elgato, come altri, dietro, per poter poi mantenere il telo quando si alza, hanno una sorta di molla incrociata, che tende praticamente con il tempo a piegarsi, incurvarsi. Mentre qui c'è un'asta, che tra l'altro si va a collocare qua dietro, e si inserisce proprio qui all'interno e mantiene praticamente il telo dritto. E qui sotto c'è un piedino che si gira e che va praticamente a mantenere stabile tutta quanta la struttura. Adesso passiamo da quest'altro lato. Vi faccio vedere qui il gimbal, il mio DJI Osmo Mobile 3. Qui abbiamo una cassa Bluetooth che mi hanno inviato per delle recensioni, un porta telecomandi per la televisione, e poi veniamo un po' a tutti quanti questi altri prodotti. Vado girando piano piano, vi faccio vedere qui la mia postazione principale. Praticamente ho un vecchio TV Samsung collegato che mi serve da monitor. Se qualche ditta volesse mandarmene qualcuno per sostituirlo ed utilizzarlo, sempre ben lieto anche di poterci fare la recensione. Come l'ho attaccato questo? Attraverso il braccio mobile snodato. È un braccio con una molla a gas al suo interno. E la chicca qui è che ci ho collegato questo ricevitore Wi-Fi che può trasmettere segnale video, segnale audio, un ricevitore di IEWA. La cosa interessante è che mi sono fatto inviare da IEWA anche un secondo trasmettitore. Dunque ho un trasmettitore collegato alla fotocamera principale che si trova qui coperta. La faccio vedere subito dove, ecco, la vado a girare, video molto esperienziale ragazzi. Eccola qui, innanzitutto faretto. Ho collegato questo battery bank, chiamiamolo così, dove al suo interno ci va una batteria collegata con cavi. Mi va ad alimentare il faretto quando è scarico, faretto eccezionale. Anche di lui link in descrizione. Braccetto che mi permette di muoverlo. Maniglia che si collega alla gabbia, quindi al cage, intorno alla fotocamera. Sony Alpha 6004. Altro alimentatore che mi va ad alimentare solo la fotocamera così non utilizzo batterie che si possono scaricare. E qui abbiamo, quello che vi dicevo, il trasmettitore IEWA. Dunque mi basta semplicemente un click e lui si va a collegare sul TV che ho lì. Ma il secondo trasmettitore l'ho posizionato proprio qui. Quando vado a collegare la fotocamera per le riprese dall'alto. Ma a breve arriveremo anche qui e vi mostrerò un po' tutto quanto. Vi faccio vedere il resto. C'è un C-Stand, praticamente molto solido, che non è il classico stativo, quelli che dopo un po' si rompono. Mentre lui è molto molto solido. Della Niver è anche abbastanza economico rispetto agli altri, non mi serve altro. E qui abbiamo delle sacche, sempre marchiate Niver, per mantenere fermo questo C-Stand, anche se in realtà non ce n'è bisogno. Vi do una piccola chicca sulle sacche. Di solito si riempiono con la sabbia, mentre io al loro interno ho messo praticamente dei pesi che si utilizzano in palestra. Quelli tondi pesanti, così non sto lì ad avere il timore che possano rompersi, che la sabbia possa cadere, eccetera. E sopra c'è collegato un faretto con attacco Bowens della Godox, che fa davvero tantissima luce. Un po' attenuata chiaramente da questo softbox. Softbox, ragazzi, che come potete notare ha delle bande. Perché? Perché direzionano la luce sul volto e mi permettono di mantenere scuro, praticamente, quello che è lo sfondo alle mie spalle. Scrivania dove vado a lavorare quotidianamente, molto pulita, che svuoto ogni volta che devo fare un video agende che utilizzo proprio quotidianamente. Questa è la mia collezione di penne e qui ci sono poi altre cosette, lampada smart e poi veniamo proprio alla parte clou. Ma non posso farlo senza passare prima di tutto per la mia sedia M-Favor. Avete visto, ragazzi? Bellissima, davvero bella. Ve l'ho portata in una recensione parecchi mesi fa e guardate, praticamente, è ancora nuova. Dunque, una sedia fatta davvero molto, molto bene. Anche se, ho notato che su Amazon, spesso, viene data come non disponibile ed è stato cambiato il colore al posto di questo rosso. È stato messo un viola, che anch'esso, comunque, è molto, molto bello. Andiamo, praticamente, da quest'altro lato e vi faccio vedere la mia collezione di microfoni. FaiFai, Nota, c'è il Blue Yeti, il Moaman, il Tonor. Perché, ragazzi, non ho venduto questi microfoni e ho preferito metterli qui? Non sempre li utilizzo, lo sapete, ma sono i primi prodotti che, tutto sommato, mi sono stati inviati per il canale. Quindi mi ricordano anche questo. Mi ricordano che il canale è cresciuto davvero tanto, anche se vorrei molte, molte più views. Ma questo dipende da voi, mi raccomando, sostenetemi con dei like, eccetera. Qui ho il mio braccio secondario, più corto rispetto al principale. In questa sacca c'è un cavo jack che utilizzo per collegarlo alla fotocamera. Braccio che, praticamente, si estende, diventa lungo. E ci vado, normalmente, qui, su questa testa a sgancio rapido, vado ad agganciarci il microfono. E qui, invece, c'è il power bank che mi va ad alimentare il microfono collegato attraverso questo piccolo adattatore per smartphone con viti apposite. Tornando un attimo indietro, vi faccio vedere che, per la fotocamera, utilizzo una testa fluida dell'Andoer. Non c'è bisogno di una manfrotto. Riesce davvero molto, molto bene a fare anche riprese rallentate. È fantastica questa testa e poi utilizzo un cavalletto della K&F Concept, un treppiedi della K&F. Mi piace molto questo cavalletto perché ha diverse possibilità. Innanzitutto è altissimo, quindi mi permette di fare riprese anche dall'alto, ma poi si può piegare ad L. Dunque, posso capovolgere il braccio, metterlo così e fare riprese dall'alto con la macchina, chiaramente, in parallelo al tavolo. Torniamo adesso alla scrivania, vi faccio vedere che su questa mensolina ho collocato questa stazione di ricarico. Ho voluto prendere questa, ragazzi, fatta in legno, perché mi permette diverse possibilità. Posso far uscire diversi cavi, qui c'è il mio iPad che ogni sera colloco, ho messo anche questo piccolo adattatore ad L per il cavo, così da non fare questo movimento e avere più spazio. Qui dietro c'è il vecchio tablet Samsung, l'8 pollici, l'S1 e qui sotto, qui dentro, c'è un caricatore con ben 5 porte USB che posso sfruttare in tante maniere. Qui sotto c'è un'altra piccola stazione di ricarica, un adattatore bellissimo, funzionale, che ho da anni. Peccato che su Amazon non si trova più della RavPower, perché RavPower è stata bannata e dunque funziona bene, non si trova e mi dispiace per questo. Qui, tra i vari cavi che ho sempre pronti per ricariche veloci, ho messo anche questo, vedete, hub USB con tastini, perché mi basta attivarli e si vanno ad accendere praticamente le luci qui. Vedete, vado a spegnere, così, luci per le riprese che utilizzo normalmente quando mi metto qui in postazione. Passiamo allora all'attrezzatura che solitamente utilizzo più spesso. Vi faccio vedere anche qui striscia LED della Nanoleaf e qui ho dei pannelli, praticamente, fonoassorbenti, con i quali ho tappezzato gran parte del muro, anche se, ragazzi, per me non è la soluzione ideale, vorrei qualcosa di più bello. Qui, interessante, ho questo braccio che utilizzavo per un faretto prima di andare a creare questa configurazione. Ecco, mi ero dimenticato di farvela vedere. Questa parte qui, lo vedete, questo stand che si mette al muro dell'IKEA, dove ho altra attrezzatura, cavi, tastiere, messelline, ho davvero una marea. E qui ho messo, con questo gancetto comodissimo, comodissimo, ho messo questo faretto, sempre della Neewer. Molto, molto, molto ben fatto, ne ho due, dopo vi faccio vedere, c'è un altro pannello fonoassorbente lì che è più decorativo, ragazzi. Allora, dicevo, ho questo braccio che con una vite, basta girarla, si allunga, avevo un faretto qui sopra, ci ho messo le cuffie che posso sfruttare praticamente in diversi modi. Piantina finta, ovviamente, che spesso utilizzo negli unboxing, joypad della PS4, vi farò vedere perché sono lì, e queste sono casse davvero molto, molto buone dal punto di vista anche dell'audio, e non costano praticamente niente, 120-130 euro, sono della Edifier, ragazzi, davvero ben fatte, ne ho un'altra di lì che avete visto. Giochi della PlayStation, le mie cuffie, le cuffie della Sony, le MX Master 4, davvero ottime, a mio avviso, anche meglio di quelle che sono appena uscite, se non altro per robustezza, e qui ho degli hub USB, il Caldigit, modello 3, non il 4. Perché ho voluto prendere questo? Perché praticamente l'ho trovato in un'offerta warehouse Amazon, usato come nuovo alla metà del prezzo, e non valeva la pena andare a spendere ulteriori soldi, quindi un hub davvero funzionale, vedete, slot per l'Sd, l'audio addirittura, microfono, porta USB-C e USB 3 a 5 gigabit, e dietro ovviamente altre porte, e qui sotto un altro hub della Yotta Master, davvero fatto molto, molto bene, peccato che manchi l'altro slot per l'Sd, che utilizzo appunto come hub secondario. Qui ho una basetta di ricarica wireless, dove vado a metterci spesso le mie Airpods Pro, non queste, perché queste sono le due senza la ricarica wireless, ma ho una custodia wireless che qualora volessi utilizzare posso sfruttare praticamente in tranquillità. Andiamo un attimo qui prima di vedere il monitor, stand per il mio iPhone magnetico, e questa è della Choatec, non si trova su Amazon, guardate, si toglie praticamente la parte tonda, difficile con una mano, eccola qui, e lo posso sfruttare anche come basetta, che si va a appoggiare praticamente sulla scrivania, ma io lo tengo qui. Dietro, postazione di ricarica che avete sempre visto in un video, sveglietta dell'IKEA, e qui abbiamo due power bank, praticamente, uno è della Sunny Bag, molto buono, e un altro è della Anker. Ragazzi, io preferisco questo modello, e non quello con lo stand, o meglio preferirei quello con lo stand, ma utilizzo questo perché l'altro, in base alle recensioni che sono vere, ahimè, purtroppo ha tantissimi problemi, e spesso addirittura non ricarica il dispositivo, cioè mentre lo utilizzate tende a scaricarsi, con questo non succede. Certo è lento, qualora utilizzaste anche una cover è ancora più lento, però lo trovo davvero fantastico. Dietro poi ho tutta quanta la cavetteria, vi faccio vedere qui la mia Stream Deck, che utilizzo quotidianamente con tante skill, per esempio, questi sono tutti quanti i profili che io sono andato ad abilitare, se volessi, vedete, disattivare le icone sul desktop come ho fatto, mi basta premere un tasto, disattiva icone, e se vado a cliccare qui, guardate, ecco che ricompaiono tutte quante le icone sul desktop della scrivania. Vado a ripremere, e attraverso, vedete, una shell di terminale, ecco mi va a disattivare un po' tutto quanto. Ci spostiamo qui prima di venire al monitor, una action cam che ho recensito della Coahu, prodotti davvero molto molto buoni della Coahu e soprattutto economici, altra piantina finta, la mia fidatissima consolina tourbox per andare a gestire i miei video, taglia, incolla, andare a gestire la timeline con queste rotelline, prodotto non eccessivamente costoso, ma molto buono. Nella parte sinistra del monitor abbiamo il controller per la lucetta che ho qui, guardate, si va ad accendere e spegnere, l'ho posizionata in alto per avere più luce, perché questa luce LED che ho collegata tramite un cavo non la utilizzo sempre, ma solo quando faccio delle video call, oppure ragazzi, quando devo fare una recensione e la faccio qui sulla scrivania. Scheda audio della M-Audio che ho sostituito nel senso che prima c'era la Focusrite che tra l'altro ho venduto subito anche ad un prezzo basso, è stata davvero un'occasione perché poi le cose le tengo davvero come se fossero nuove ogni giorno, le curo eccetera. Scheda M-Audio molto molto buona, solida, grande manopola, mi piace davvero tantissimo per il controllo del volume, poi abbiamo la possibilità di andare a collegare microfoni, strumenti, andare a regolare il gain a cuffie principali, ma dietro ci sono altri attacchi che vanno al main, possibilità di alimentarla con Phantom, 48V per microfoni a condensatore, eccetera. Qui invece ho praticamente uno switch, diciamo così, dove sopra ci ho collegato delle cuffie e ho fatto un azzardo ma sono in attesa di acquistare, mettendo un po' di soldini da parte, il Mixcast 4 della Tascam, meglio del Rode secondo me, che poi mi permetterà di gestire tutto, andrò a togliere tutto quanto questo così potrò gestire cuffie, microfoni, eccetera. Intanto ho fatto un collegamento che mi portano appunto questi dispositivi direttamente sul mixer Behringer che funziona anche come una vera e propria scheda audio dove ho qui tutto quanto sotto controllo, persino il monitor è collegato qui sopra, posso gestirlo separatamente, posso gestire separatamente i canali master, dunque il sinistro e il destro, andare su una cassa e sull'altra, ma qui ci arriviamo a breve perché vi voglio far vedere la chicca che è il monitor curvo, 34 pollici finalmente, ed è un Mate View dunque di Huawei. Ragazzi, bellissimo! Per chi mi segue da tanto sa che prima avevo un monitor della LG, il 32 pollici LG con il quale mi sono trovato malissimo, questo è davvero bene, colori davvero ottimi, ovviamente dalle riprese non si vede tanto, ma ha la particolarità di avere una soundbar, non è chissà che cosa, però però ce l'ha e soprattutto, vedete, si abbassa, mi basta fare in questa maniera, si abbassa e si alza e dietro ecco, PlayStation e Mac Mini collegati al muro e questa è una chicca, è un braccio che io vado a girare e utilizzo sempre un action cam della Coahu come webcam, mi basta attaccarla con questa testa girevole sempre e quando devo fare delle riprese, dei tutorial, dietro alle mie spalle metto il green screen, tolgo l'action cam e ci metto la mia fotocamera, tutto con queste piastre a sgancio rapido, quindi non devo stare a girare, posiziono e via. Altra cosa ragazzi, vi faccio vedere questo controller, fantastico, è un controller poco costoso, mi serve per andare a controllare il volume qui sul computer, guardate, vado a girare la rotellina ed ecco che il volume praticamente si alza e si abbassa, tenendolo premuto si mette a muto. Altra cosa che vi mostro ragazzi, tastiera Logitech MX Keys Mini, non so se avete visto prima c'era anche la MX Keys, le utilizzo entrambe alla faccia di chi dice che vi avevo consigliato di non comprare questa, o meglio non compratela se, ma magari andatevi a recuperare il video. MX Master 3, avevo un MX Ergoi perché mi aiutava davvero a mantenere il polso in maniera dritta senza problematiche di sorta, ma poi sono passato a questo quando ho iniziato ad editare video perché ha tantissime funzioni, questa è la versione per Mac. E qui ovviamente Trackpad Apple che mi aiuta in questo. Sono in questa posizione per farvi vedere anche qui sotto, ci sono diversi ganci, qui ho attaccato un primo paio di cuffie che va a quello splitter che vi ho fatto vedere prima, ho fatto dei buchi, cavi molto molto lunghi perché posso arrivare dove voglio e qui c'è un altro paio di cuffie che di solito utilizzo quando sono praticamente in videoconferenza. Queste sono delle vecchie cuffie Sony, mentre queste per me sono fantastiche, poco costose, AKG, hanno praticamente un suono super super piatto, ovviamente voi dite ma a che ti servono così? Servono per editare, dunque per capire i suoni per bene e vedere se ci sono aggiustamenti da fare, anche di queste link sotto in descrizione. Dunque ragazzi non sono delle cuffie per poter andare a ascoltare musica, mi raccomando tenete in considerazione questo. Vi faccio vedere l'ultima parte, torniamo qui, microfono, il PodMic della Rode, ottimo, eccezionale, braccio che non è né della Rode né della Blue eccetera, un'altra marca non mi ricordo, è LogiLink, molto molto buono, bisogna sempre stare attenti qui. Mi piace perché è fatto così, è un monobraccio, non ci sono molle che si vedono, il cavo può essere raccolto qui. Arriviamo al mixer che vi avevo già fatto vedere con tutta quanta la cavetteria, mi va a collegare anche un monitor che utilizzo per la chitarra e qui registratore zoom, lo zoom H4n Pro, che utilizzo per registrare un po' tutte quante le tracce. E qui vi voglio far vedere, a parte queste tastiere della Logitech, non so se si coglie, ma c'è uno stand praticamente che me le va a mantenere, uno stand a tre posti per intenderci, addirittura qui c'è il mio Kindle Oasis, uno stand fatto molto molto bene che permette appunto di tenere i dispositivi in quella maniera. Qui infine c'è un cassettino, ho comprato sempre all'IKEA, dove dentro ci sono altre piccole cose che mi possono servire al momento. E a proposito ragazzi, dimenticavo l'altra parte importante, ve la faccio vedere, altro braccio, eccolo qui collegato al muro, zaini che avete visto anche in recensioni, altro faretto LED che mi serve per andare a compensare la luce quando utilizzo il green screen, braccio chiaramente che si allunga sulla scrivania, che mi permette con questi altri braccetti della Niver piastra sgancio rapido di collegare la fotocamera. Vi ho fatto vedere qui il trasmettitore, mi basta un clic e passo all'altra fotocamera nel monitor, faretto sempre della Niver, della Niver addirittura anche questo monitor da campo, poco costoso ma davvero eccezionale. tutto è alimentato con questi cavi che mi vanno a questo alimentatore USB che poi ho collegato alla corrente e nel mobiletto che vi facevo vedere lì ci sono anche le prese smart e quindi mi basta un comando, tra poco ve lo faccio vedere, per accendere e spegnere tutto. Qui registratore zoom davvero ottimo, piccolo, con delle capsule direzionali, mi prendono l'audio davvero molto molto bene, anche lui collegato ad un braccetto dunque posso andarlo a mettere nella posizione migliore. ma vi faccio vedere, Alexa spegni studio, ecco che si è spento tutto, vi faccio vedere la prima automazione, quando dico Alexa accendi YouTube, si accende il faretto, in automatico ragazzi si va ad accendere anche la televisione con un comando ritardato, si accende anche il trasmettitore, vi faccio vedere che a breve compare la schermata di trasmissione, vedete già si posiziona su HDMI e sono pronto con i trasmettitori che vi facevo vedere prima di andarmi a collegare. Poi mi basta dire Alexa modalità scrivania, ed ecco sono pronto per fare unboxing e recensioni, ma posso dire anche Alexa modalità tutorial. si va a accendere la lampada centrale, si vanno a accendere quelle lateralmente, dunque sono pronto davvero per tutte quante le situazioni. Ragazzi lo so, video lunghissimo che tra l'altro ho girato con il mio DJI Pocket 2, comodissimo in queste situazioni, spero che vi sia piaciuto, spero che possiate aver trovato spunto anche per arredare la vostra casa, attrezzatura che vi occorre. Chiaramente io ho acquistato tutto nel tempo perché costano davvero tanto e francamente ragazzi il canale non ha quella resa che mi permette di acquistare questa attrezzatura subito come fanno tanti YouTuber in un certo senso, quindi non è tutto oro quello che luccica e non pensiate che tutto ci viene inviato gratis, oppure spesso quello che ci viene inviato gratis dobbiamo anche restituirlo, pertanto tenete conto di questi. È una passione che per il momento dura tre anni, dal 2019 ho avviato il canale, siamo già a 12.500 iscritti, mi sarei aspettato un po' più di visualizzazioni, però ecco, spero che possa continuare e che ovviamente il tutto piano piano andrà anche a modificarsi con attrezzatura sempre migliore per portarvi anche contenuti migliori. A tal proposito, se vi va di sostenermi, oltre con i like, con le iscrizioni al canale, potete anche abbonarvi al canale. Ci sono diversi piani di abbonamento, davvero poco costosi, ma che comunque vi danno anche accesso a dei vantaggi. Per esempio, qualora aveste bisogno di un'assistenza, non si tratta della solita chat Telegram dove si parla così, ma un'assistenza dedicata anche in collegamento, ecco, potrete sfruttare quello, potrete sfruttare anche il pulsante grazie sotto al video, sempre a sostegno del canale. Vi dico che se acquistate qualcosa partendo dai link qui sotto in descrizione, sosterrete ulteriormente il canale, a voi non costa praticamente nulla, mentre a me arriverà una piccola percentuale, siamo nell'ordine dei centesimi, ragazzi, non credete chissà che cosa, però ecco, tutto va a contribuire ad aumentare la qualità e insomma anche, perché no, a dare fiducia ad un creator che in un certo senso tenta di emergere. Vi ho detto, nella vita faccio il professore, non è la mia attività principale, però ecco quell'uno o due video a settimana, riesco a produrli per il momento, tutto per voi, ma prima di tutto per passione. Va bene, per questo video veramente è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, ci tengo, ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo. Ciao! Ciao!